accanto a me il cantastorio dello profazio buonasera buonasera simpatia a non finire anche antipatia io i miei bravi detrattori ma anche persone che simpatizzano moltissime allora lei utilizza delle parole o comunque delle frasi a pungere per trovare insomma dei punti di incontro più che dei punti di scontro cioè io intervengo anche politicamente oltre che civilmente sulle cose e allora anche su melito melito c'angi e puro con da furi con i sospiri iettano i muri e c'angi bianco bovalino e ardori a bagnara si c'angi per folclore c'angi gioiusa oppido e malocchio almeno a villa c'angiono con occhio vieni in calabria che ci troverai cose che non si vittero mai mai si può ammirare i bronzi di Riace e tante belle fabbriche arruggiate l'assessore sono curdi finanziano cantastudi o concorsi Miss Italia mentre noi mangiamo calia 4 a mie e 5 a tia e 8 a sore e 2 a mezzia e così questi maneri camminiamo avanti a rete e così questi maneri camminiamo avanti a rete dillo ditelo voi io l'ho detto e così questi maneri camminiamo avanti a rete e così questi maneri camminiamo avanti a rete sta bene ciao bella beh merito un'ultima domanda ci vuole l'improvvisazione ultima stretta ultima stretta lei parla sempre con questi motti in dialetto anche per insomma portare in luce quella che è la nostra terra di Calabria non lo faccio per questo perché a me piace è un modo congeniale di io sono un ricercatore ecco dice cantastorico la prima qualifica che ho è quella di ricercatore quindi a me piacciono queste cose e ho sempre carta Pirna e Calamaro prima avevo il registratore sempre appresso adesso mi sono un po' stancato però io ho raccolto oltre 400 ore di registrazione ciao bimba